una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino sulla A11 in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 sulla Fepilì code a tratti tra Lastra assegna Firenze Scandici in direzione Firenze code in uscita a Santa Croce in direzione Mare su raccordo autostradale Siena a Firenze ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord per lavori la viabilità cittadina a Firenze in via Gabriele D'Annunzio per un incidente rallentamenti con restringimento di carreggiata Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti